C'è gente, regà. Ciao, non c'è una mina. Pro sti c***o. Passa del zombie, ma porco, oddio, rottura dei coglioni. Metto qua sotto. Oddio, mi fò c***ato tutto. No, due. No, regà, sta sortetto uno, porco. Eh, ma noi t'avemmo detto di venire qua, però, Cristo. Mi sta nel sottoscala. No, no, dimmi qua. C'è sta spizzato, c'è sta spizzato, eccolo. Non posso, non posso. Sta sopra al tetto sta guardando dietro. Tu c'hai massima allerta, come fa il cavillo? Che cosa? Ma c'è uno strunzo che attiva sempre il evento zombie. È un bastardo raro, porco. Senti, regà, senti. Esce qui, probabilmente. No, no, non esce. Sta al vialetto, al vialetto dove stiamo vissando, capito che vero? Passi in arrivo, spostamento della zona sicura. Ok, allora, Sandri, mo, piano piano, fanno tutto il giro del palacio. Sto sul tetto, sto sul tetto uno. Non c'ho un fantasma, non c'ho un cazzo. È un safe qua, mi sa. Arriviamo gli stanti. Mi sta in un posto del merda, regà. Quattro persone, pingo. Pingo, tre persone, un'assieme a Trinamea. Io sto fuori. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ma posso entrare, capo? Eh sì, che puoi entrare, che è visto. Oh, vieni qui sotto, regà, porco Dio! No, sono qui sotto al tavolo. Ma ti cercano? Sì, che è il hangf! C'è un'intervista su, non so, non so... Non so, non so, non so... Là, 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 al desk, al desk. Sto da nessun'anno i ho capito. Come cazzo uscite? ma questo dove sta là sotto qua sotto adesso di merda ferme 7 7 7